Davide Baraldi inizia la seconda settimana di lavoro, poco alla volta la squadra si sta conoscendo, si lavora con quale spirito? Lo spirito è buono, abbiamo fatto una buona settimana, i ragazzi hanno messo un bel atteggiamento perché nonostante abbiamo iniziato abbastanza presto e col caldo hanno però lavorato bene, hanno lavorato intensamente. La prima settimana è andata molto bene, io insieme al mio staff siamo stati molto contenti, chiaramente adesso l'input della seconda settimana è quello di continuare su questa strada e chiaramente con l'idea mano a mano di migliorare un po' la qualità sia fisica che tecnica e naturalmente quindi lavorare con questo obiettivo di migliorarci giorno dopo giorno. Anche perché poco alla volta si uniranno le atlete, anche i membri dello staff, per cui poco alla volta la squadra si amplia e ci si prepara poi per quella che è la stagione? Sì, esatto, si stanno aggregando mano a mano delle nuove atlete, domani ci sarà anche il nuovo assistente Manuel e quindi chiaramente potremo andare ad aumentare quello che è magari una richiesta tecnica sia per quello che riguarda naturalmente il lavoro tecnico sia per quello che riguarda il lavoro fisico e quindi chiaramente anche cambiare qualche tipologia di lavoro inserendo sempre qualche elemento nuovo grazie appunto all'aiuto anche di altri assistenti allenatori. Grazie. Grazie.